salve a tutti ragazzi e benvenuti e svegliati con un nuovo video di new one con i due bene andiamo pure avanti e vediamo di mazzare anche questo oh coso dovremo livellare sono abbastanza contento perché incominciano ad essere tosti 55 adesso vabbè sono santo come noi per carità eh però insomma è la miserica che botta esagerata e botta che compressa allora vediamo un pochino Se non si sia congelarlo non è che mi farebbe schifo però Ok Vai 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 Ce la facciamo quasi Ok Andiamo qua Vai Mattelata Eccola qua la mattelata Guardate quanto gli ha fatto 2200 Guardate che roba Aia Che roba che mi ha fatto Porca miserica Adesso Stiamo di fare tanto malo Vai E adesso prendiamo l'altro Bene dai sono contento Oh si Ah Adesso non ce l'è per nessuno Se lo trovassi Aia Ovviamente era nel casino eh Tant'era così Aia Aia Maledetto Vai 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 L'altro Ok No maledizione Me l'ha Fatto togliere Bastardo animalo Eh vabbè Questi sono così Lo sappiamo Non ci facciamo niente E' andata Aia In piena faccia Porca miseria Ma che cazzo Ma Cioè riuscite a prendermi da laggiù Siete proprio stronti Ok Vai 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 Miseria L'ha fatto tirato Eh ma Fa culo però eh Eh insomma Quando ci vuole ci vuole No anche questo è di certo Eh Vabbè Dai che è morto Alleluia Oh Siamo a 66 Legate siamo a 66 Siamo contenta Dai Speriamo che non sia più di 70 Il boss Non sono nella merda Ok Anche questo è andato Adesso facciamo l'altro Beh si fanno abbastanza bene Dai Vero Mantello Consacrato Questo mantello Sicuramente è per lui Dove si chiama Ui Oh Interessante Sì È interessante Ok Tanto Insomma Non penso che Lei Abbiamo bisogno di qualcosa No Alla fine Siamo messi bene tutti quanti Dai Finalmente degli item Proprio inverso Cavolo Non trovavamo mai un casso E andiamo nell'ultimo E vediamo che succede Oh ma c'è uno schigno qui Vediamo un po' che schigno è Sarà un'altra Acqua santa No c'è un tessuto strano Siete diabolica Cosa farà mai Siete diabolica Eh santa miseria Ok Vediamo un po' L'ultimo Che cosa ci aspetta Spero non sia il robot O quel cavolo Che saltano a destra e a sinistra Con quattro gambe Vabbè un drago Un aviverno Quello ci voglia dire Eh ma te non le fare comunque perfette Accidenti a lui Fantastico È perfetto Non solo la combo Non è andata a fine Ma mi ha Anche se Fraganato di volte Accidenti a voi Eh adesso ci pensa lui Vero Magari Andiamo Non ne andiamo Proprio davanti Vai 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 Sali proprio Stacombo Ok Eh no Certe volte Non la fa bene Però rimane parecchio E due Perfetto E scargo Perfetto Oh Guardate le botte Che gli sto dando Eh vai Oh sono contento Che mi ha massacrato Però sì Sono contento parecchio Guardate che botte Che gli stiamo dando Oh mamma mia Che emozione Eh sì Adesso Non tocca a me Aspetta un attico Vai Perfetto Ho fatto Ho perduto tutta Però non l'ha fatta Da comunque Due a fare Maledizione Vediamo quanto Facciamo del 66 Quanto facciamo Eh abbiamo fatto Un buon metà del 66 Perfetto Data benissimo Vediamo che ci dia Qualcosa di buono Va Ok Una tunica cristallina Ma ancora per lui Le tuniche Accidenti Adesso si doveva Aprire il cancello Perfettico Ma una scalinata Da panico Ci attende Bene Si è aperto Ok Ci siamo quasi Tra poco potremo Dare ad Amnar A quello che si merita Già Mamma mia Non è niente di buono Ok Lui torna Nel suo mondo O che viene posseduto Non si capisce Ronald Ronald Ti senti bene Ah sta proprio Un fiore Una crema Proprio Di quelle Di marca Ehi Fatti forza Ma cosa È svenuto Fatti forza Oh Questo è il mio mondo Il mio mondo Il mio mondo Ok Qui Sì Èhower Voi Beh Ti Voi 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 In No, non è bene. Il mio padre deve protegere a te. Deve protegere? Il mio padre? Il mio padre... Non mi guarda, non mi guarda. Non ho parole Sembra essersi ripreso Roland riesce a sentire A stare in piedi Io cosa è successo? Sei di nuovo stato avvolto Da quella rebbia nera E sei crollato a terra Accidenti che spavento Tenevoti avessero strappato l'anima E che fossi diventato un vegetalo Capisco scusate se vi ho fatto preoccupare Andiamo avanti Così Quella nebbia attorno al corpo di Messer Roland Percepisco una certa potenza magica Mi sembra di averla già sentita in passato Una spiacevole sensazione Speriamo non sia lui Il vostro finale Dobbiamo fermare Ammar Prima che sia troppo tardi E ha fatto tutta la scalinata Meno male che se l'hanno fatti loro Perché devo farla io Mi hanno beccato di casino Insomma Poi c'è un punto save Ah ma dove? Deve essere qui Oh Ah mi prudono le mani Non vedo l'ora di acchiappiarlo Non riesco più a parlare Questa sarà la nostra ultima battaglia Prepariamoci a dare il massimo E quindi non posso più potenziare il castello È un bel problema che Non posso potenziarlo perché non ho annullato la gente Ma Fatemi vedere una cosa eh Allora questa mi Ok mi da lei Io non avrei una in più Questa non mi da lei Quindi niente Questa non mi da nessuno Questa non mi da nessuno Quindi al massimo potrò averne una in più Ma io sono a 92 Dove le varie a 100 Dove cazzo sono gli altri? 8 Eppure ho girato Ho stragirato Ho stragirato Da tutte le parti A meno che non siano in dei dungeon Un Come è già successo E cavolo Però così è brutto eh Io ho cercato di girare più che potevo Non ho mai trovato nessuno Allora Io ci riprovo a girare un attimo Ma Vedo un po' depresso Va bene ci vediamo più tardi E niente ho girato un po' di posti Ma non ho trovato nessuno Boh chissà dove siano Finiti Non ne ho proprio idea Vabbè pazienza Amen Eh ci tenevo Però se non ce l'ho fatta Amen Che devo farci Allora vediamo un pochino Eh ma è per forza che c'è avuto il presentimento Non è che stiamo andando a trovare Il cappuccetto rosso Stiamo andando a trovare il lupo Che si è in mangiato il cappuccetto rosso Che cavolo Non ècia È Sì Ah... Hamunar... Ahahahah... Gola no Kagon che... ...che si tratta a me e te. Ma se mai? Roland ha... S'essuale... ...mai mazizista di mazizio... Cazzo ma sono uguali? ... Ah... ...d'acqu'è stata un'amore di Gora, che si tratta di un'imposte di te, ma che si tratta di un'unica. E' un'amore di un'amore. Ma... ...ma che... ...ma che... ...ma che... ...ma che cosa... 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 Sì, io non ho bisogno di prendere l'uomo, Lola. È vero. Mi è il presidente. Se il questo mondo, è il reto. Lola! Non ci sono più attenzione, non ci sono più attenzione. Per chi lo sopettere, non ci sono più attenzione. Lola! Ah, fantastico! E come fai a fare questo paese? 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 E come fai a fare? Ok Oh L'ho fatta fare Ok Bene bene dai Un po' di botte glielo date da orbi Vai Perfetto 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 Dai 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 La stiamo facendo La stiamo facendo La stiamo facendo Che cazzo Ero sicuro Ero sicuro di avercela fatta Che figuraccia di merda Oh però l'ho ucciso lo stesso E sono 67 Grande così E' andata benissimo Ho usato un po' di cose però Siete riusciti a resistere al mio potere? E certo Devo ammettere di avervi sottovalutati Oh Vedete più Pochi Ah E quindi? A selenio ACE che succede? O però Mamma mia Oh le bloccatrici Cavolo ma è una battaglia veramente senza esclusione di colpi? Oh 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 Quindi fermando quelle Pochi fatui Le anime sono Stanno ritornando ai loro proprietari No la tiro lì eh Non lo so What a no E' finita E' finita Siamo sicuri? Io selenio lo vedo ancora bello vivo eh Ah ok si è lamentato Quindi è finita veramente Ma pensavo Per combattere quanto Qualcosa Gente E' arrivata una comunicazione Comunicazione da Vector Dice che le anime robate Degli abitanti Degli abitanti Del mondo stanno tornando ai loro proprietari Oh che bella coscia Bene ce l'abbiamo fatta Io so Il piano è rifiuto Che bello Siamo una bella squadra eh Non è ancora finita Ah ecco Se non facciamo qualcosa per selenio Non otterremo mai la pace E' ormai il dottomalo eh Ma perchè quella maschera Ma perchè quella maschera? Scusa Ok Io posso fare qualcosa Ehm Tornare indietro Vediamo se mi fa tornare Sono Scusate Lo so che sono una palla Ma devo andare a vedere Assolutamente Se si può fare qualcosa A dopo E niente Purtroppo non ci sono Mi rassegnerò Pazienza Beh livello 67 Chissà Se sei un buon livello Visto che Quando ho iniziato a giocare Ha sbloccato il livello 150 Non penso di essere tanto buono Però Vediamo che succede Ah Da qui in poi Non potrei più tornare indietro Sei sicuro di volerla proseguire Quindi è finito il gioco Ehm Mi dispiace ragazzi Perché Ci tenevo tanto A portare al massimo il regno Ma ce l'ho messa tutta Ho lasciato indietro solo una quest Che potevo finire Per il resto Le altre Non so come trovare La ricetta Uno E gli gambari l'altro Però Comunque Non sarei riuscito A fare quello che volevo Boh Va bene ragazzi Io direi che ci possiamo fermare qua Così nel prossimo episodio Vediamo la fine Quindi ragazzi Io vi invito a lasciare un like e un commento Se mi piace la serie E fammi sapere cosa ne pensate E per adesso Ciao ciao